perché questo è matto e ragazzi per darvi un'idea per darvi un'idea eccole per darvi un'idea queste sono le mie cuffie cos'hai rotto stavolta quindi cosa dici eccolo ragù sei live su twitch come stai bene tutto bene ti lascio qua sulla scrivania è sei piccolo ma sei fatto di disastri 433 con bella forza passo 9 433 ma solo a me si vede male ragazzi a voi si vede bene a me si vede male guarda qua come ruba palla attenzione attenzione mi esalto mi esalto mi esalto ma che passaggio è perché passaggio è cioè qua la palla fatta bene fa guarda davvero berna eccolo qua chiesa per la ripartenza chiesa per la ripartenza eccolo qua chiesa per la ripartenza aveva anche la possibilità di darla berna davvero questo è colossale dai è nostra solo solo arrivano adesso è però sì berna che bel passaggio per abbio se la bio fa gol di destra rientrare bravo chiesa bravo chiesa federico chiesa che fenomeno eccolo lì sul divano come si vede come potete vedere ho dovuto togliere il copridivano della juve perché lui ha deciso bene di farcela più più sopra e ha deciso così quindi copridivano della juve se non è andato io temo che che lui stia cercando anche adesso ha cagato sul divano ha cagato sul divano appena cagato sul divano mi ha tagliato una mano e poi ha cagato sul divano questo gatto è qua da due giorni e dopo pulire ma adesso sta pisciando e adesso sta pisciando tutto questo in diretta su ma c'hai la lettera lì è piena va bene perché adesso i colori fanno ancora più schifo FEDERICO CHIESA FEDERICO CHIESA FEDERICO CHIESA FEDERICO CHIESA dopo un secondo le Juventus è in vantaggio cos'è successo dal nulla dal nulla torna qui a cagare dappertutto è l'assist del Berna è la cacca sul divano la lasciamo lì rega si si vede malissimo i colori fanno schifo ma chi se ne frega 1-0 assist del Berna gol di chiesa e vai così e vai così tra poco mi stacca la luce è andato dove c'ho tutte le prese ma mi ha buttato giù il router mi ha buttato giù il router bravo loca che bel lancio per quadrato il Bernardeschi ha fatto il difensore qua si è mangiato un bel gol il Berna no 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 dai benta dobbiamo recuperare un pallone ragazzi dobbiamo stiamo toccando palla da 5 minuti manetti eh 5 minuti dove era andato scesni dove era andato scesni si era più grande la palla secondo me era arrivato fortuitamente perchè questo secondo me era un evituito ma ah no ma invece si è stato bravo per la prima volta a farsi un po' forza sull'appoggio di Borucci e che ho sbagliato 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 e che è stato bravo Borucci poi un po' a limitarlo a scesni e che ho sbagliato proprio per la miglior occasione del Chelsea quanto c'è di recupero? minchia culo sempre il primo spot tu vuoi? McKennie bisogna gestirle bene queste palle gestione gestione McKennie Giorgio Chiellini Giorgio Chiellini Giorgio Chiellini Giorgio Chiellini alta 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 altissima purissima levissima altissima purissima levissima sopra la traversa e la Juventus vince e la Juventus vince e la Juventus vince contro il Chelsea campione d'Europa Juventus vince Chelsea 0